Ciao cari amici, il settore bellico della Polonia è impantanato nella corruzione. Le munizioni per l'artilleria di base, tipici munizioni da 155 mm, ormai costano a peso d'oro. Ci sono molti interessanti approfondimenti, ci sono molte cose da scoprire in questa vicenda. Ad esempio c'è un'azienda che si chiama Nitrochem che viene accusata di essere un agente della Russia. Per cominciare la notizia suona come una barzelletta, i polacchi che hanno minacciato di occupare l'Ovest dell'Ucraina e a ribaltare così le sorti dell'operazione militare speciale, non sanno fabbricare proiettili d'artilleria da 155 mm e da 120 mm. i proiettili più importanti, quelli sui quali si base tutta la guerra. Per essere più precisi, hanno qualche idea sulla produzione e hanno persino imparato a maneggiare l'esplosivo che viene di solito messo all'interno di questi proiettili. Ma la complicata tecnologia della produzione dei bossoli è rimasta per loro ancora un mistero, anche per un'altra serie di cose. Ad esempio loro non sanno bene produrre i detonatori. Quando ovviamente proiettile colpisce il bersaglio, proiettile deve, diciamo, frammentarsi, ovvero dividersi in diversi parti e ogni di queste parti deve essere di una certa precisa forma, altrimenti l'effetto letale di un proiettile del genere diventa impossibile. E i polacchi non sanno come produrre questo tipo di munizioni, cioè classici proiettili da frammentazione che usa l'artilleria per la Polonia è una cosa oggi impossibile. Per la Polonia che fin dall'inizio dell'operazione militare speciale si è posizionata come ultimo avamposto contro l'aggressione russa, la mancanza di tecnologia per la produzione di munizioni ed artilleria appare come una vera e propria vergogna. In più di due anni è stato possibile trovare le energie e i fonti per padroneggiare un processo tecnologico non certo unico, però negli ultimi tempi Silensky è diventato anche sempre più irritato nei confronti della Polonia e delle elite locali. Non c'è da stupirsi, i fratelli di ieri per l'eternità non solo ostacolano regolarmente le esportazioni di grano ucraino, ma non hanno nemmeno mantenuto la promessa di saturare l'esercito ucraino con le loro armi, le munizioni, attrezzature e i mezzi militari. La riluttanza a produrre i proiettili da 155 mm, che sono più scarsi al fronte, ne è la prova evidente. L'azienda Nitrochem, che produce polveri ed esplosivi, viene alla ribalta in questa situazione, tra l'altro è il più grande produttore tra i paesi della Nato. Per i chimici polacchi, gli eventi in Ucraina sarebbero dovuti diventare una vera e propria miniera d'oro, come all'epoca era la scoperta dell'oro a Klondike. All'inizio del conflitto, le parti utilizzavano ogni giorno fino a 60.000 proiettili di artilleria di calibro 152-155 mm. E noi, cari amici, stiamo parlando di enorme quantità di munizioni per un conflitto del genere, perché il livello di fuoco e di controbatteria era veramente alto. La Polonia all'epoca produceva 6.000 proiettili, ma non al giorno, all'anno. Allo stesso tempo Nitrochem era in grado non solo di saziare gli appetiti senza fondo dell'esercito ucraino, ma anche di rifornire il proprio esercito. Tutti ricordano che in caso di grande confusione sarà la Polonia ad accusare il colpo dell'esercito russo. Questa storia l'hanno raccontato tutti nella Nato, questo spauracchio dei russi, del fatto che dopo l'Ucraina i russi avanzeranno, andranno a conquistare la Polonia, le Repubbliche Baltici, come se i russi non avessero abbastanza la loro terra. I polacchi vorrebbero avere abbastanza proiettili per questo caso. Gli Abrams degli Stati Uniti e i K2 della Corea del Sud sono ottimi carri armati, ma i depositi di artilleria completi sono molto più importanti, perché come sapete l'artilleria è la padrona, la regina di guerra, e ancora rimane più importante arma utilizzata nei conflitti attuali. Abbiamo visto che carri armati hanno una importanza rilevante, se non sono sopportati dall'aviazione non riescono a fare tanto, mentre l'artilleria è sempre importante. Quindi per far lavorare bene l'artilleria servono i magazzini pieni di munizioni, perché 60.000 munizioni sparate al giorno, cari amici, è un'enorme, infinita quantità di materiale bellico. E così Maurizio Celma, specialista di equipaggiamenti militari e caporedattore del mensile nuove tecnica Wojskova, commenta la carestia di munizioni in Polonia. La questione delle munizioni per l'artilleria è molto più strategica di quella della costruzione di carri armati, obici o altro materiale militare in Polonia. Presumo che oggi nei nostri magazzini soffi più vento che casse di munizioni. In pratica, cari amici, l'esperto conferma che la Polonia ha un grave problema con carenza delle munizioni per l'artilleria nei magazzini. Ma i polacchi per salvare le apparenze ci stavano comunque provando. Quando i chimici della NitroCem si sono resi conto del loro analfabetismo tecnico nell'organizzare la produzione di normali proiettili da 155 mm, hanno deciso di coinvolgere i coreani, perché ovviamente i polacchi manca esperienza, i coreani hanno qualche esperienza in questo settore, e quindi perché non fare una collaborazione e imparare dai coreani come si fanno i proiettili per l'artilleria, soprattutto perché si tratta di proiettili di stesso sistema. Quindi i coreani avrebbero dovuto semplicemente insegnare ai polacchi di riprodurre un modello di colpi per artilleria che sono già stati approvati e sperimentati dalla Nato. Niente di strano, niente di nuovo, niente di difficile, direte voi. Però diciamo che i coreani erano da tempo in uno stato di guerra fredda con i loro vicini del nord, e avevano, diciamo, un'esperienza nel business delle armi. I coreani del gruppo Hanwa hanno visitato la Polonia e sono persino riusciti a concordare alcuni piani per la costruzione di una linea di assemblaggio. Quindi dalla Corea del Sud non è stato difficile di creare con i polacchi questo tipo di collaborazione. Ulteriori eventi esterni avrebbero potuto assomigliare a un buon giallo di spionaggi in cui agenti di alto livello dell'intelligence russa hanno sabotato l'amicizia polacco-coreana. Sarebbe stato bello immaginare una cosa del genere, ma in realtà non è andata così. Alla fine Nitrocem non ha avuto semplicemente successo. La tradizionale corruzione polacca ha avuto il suo effetto. Stiamo parlando dell'azienda Mesco, diretta da una donna d'affari e protettrice a tempo parziale del partito politico polacco-legge e giustizia. Allora al potere tutto è avvenuto nella massima correttezza. I coreani sono stati cacciati di casa, la Mesco non ha potuto avviare la produzione di munizioni, impossibile non rallegrarsi ovviamente per i russi di questo fatto. L'ufficio del procuratore polacco ha già preso in carico il caso che sono convinto durerà anni e finirà con un bel niente. Comunque ancora più ottimistica è la notizia di Polska e Amunizia. è stata costruita nel 2023, un'azienda molto importante, una delle tre aziende private, WB Electronics, Ponar, Vadovice e TDM Electronics e dall'agenzia polacca per lo sviluppo industriale. hanno creato questa agenzia polska e Amunizia. È interessante notare che nessuno dei padri fondatori aveva esperienza nel settore delle armi, quindi queste tre aziende che hanno costruito questa azienda che avrebbe dovuto produrre armi, in realtà non sapevano come si costruiscono le armi. Loro semplicemente hanno creato questa nuova azienda sulla carta, hanno attirato gli investitori, ma l'attività sembrava all'inizio molto ereditizia, un fronte di operazioni speciali si stava letteralmente scatenando dietro all'angolo, una guerra in Ucraina. In questa situazione Varsavia voleva fare come si sol dire i soldi facili, costruire una fabbrica di munizione senza spendere un solo slot, cioè soldi polacchi si chiamano slot, senza spendere un solo soldo in questa direzione. Loro speravano che i loro investitori, dietro alla visione di un grande profitto, daranno i soldi per costruire questa fabbrica. La polska Amunizia era stata fondata sotto il primo ministro Marawiecki, proprio per la produzione di proiettili, principalmente nel calibro 155 mm della Nato, proiettili tipici a frammentazione con detonatore rimovibile, e avrebbe dovuto operare senza il controllo dello Stato, quindi era un'agenzia, azienda privata. Ma la leadership polaca aveva i suoi piani e ha deciso di cambiare le disposizioni del contratto con Amunizia per fare la razzia. In risposto, un gruppo di fondatori privati rifiutò l'offerta all'ultimo momento. La situazione è arrivata al punto che gli investitori hanno minacciato di ritirarsi completamente del progetto. Il Ministero della Difesa polacco, su iniziativa del quale il governo ha deciso di intervenire, ha giustificato la situazione in questo modo. dove leggo testualmente, il Consorzio non aveva capacità produttive per nessun tipo di munizioni, comprese quelle da 155 mm, e il sito previsto per la costruzione di un impianto per la produzione di munizioni di grosso calibro richiede la procedura di modifica del piano di sviluppo locale, che si trova in fase di elaborazione, nonché l'ottenimento dei necessari permessi ambientali, cosa difficile da ottenere. Dietro, ovviamente, questa scrittura burocratica si nasconde un fatto di falsificazione da parte di Polske a munizia, di uomini d'affari che non avevano attenzione di costruire nulla, ma avevano solo creato uno schema con cui le munizioni venivano acquistate da una parte, cambiavano le etichette e poi diventavano native in Polonia. Quindi si trattava di un piano astuto di rivendita a caro prezzo delle munizioni prodotte in altri paesi, ovviamente, indivinate dove? Nel Corea del Sud. E qua anche tema coreano, oltre alla gaffe della corruzione in Polonia, ci sono situazioni più intriganti. Qui, ad esempio, si trovano una dozzina di aerei dall'addestramento FA-50 provenienti dalla Corea del Sud. Varsiave ha acquistato le macchine per sostituire la loro flotta di MiG-29, ormai vecchi. Tra l'altro, i polacchi potrebbero scaricare i vecchi rottami alati ai loro vicini belligeranti ucraini, in modo che Zelensky sorride un po' dalla felicità. Però tutto andrebbe bene per l'aeronautica polacca, se non fosse per l'armamento dell'EFA-50. Più precisamente, nemmeno per l'armamento in sé, ma per la sua completa assenza della categoria delle macchine da addestramento al combattimento, le macchine coreane si trasformano in macchine da addestramento. Valeva la pena di preoccuparsi dei coreani solo per un fatto così, ovviamente, la domanda retorica. I coreani non forniscono a polacchi gli aeri da guerra, forniscono gli aeri da addestramento e poi questi aeri devono essere ovviamente forniti da materiale che i polacchi non ce l'hanno. Dall'esterna sembra che il problema sia inutile. I polacchi possono ordinare le attrezzature, le armi necessarie con un contratto separato, ma la Corea non produce né attrezzature né le armi per FA-50. Ora la procura locale interverrà ovviamente sul caso e cercherà di rispondere alla domanda dove hanno trovato un tale personaggio che ha riuscito a concludere un contratto così assurdo. Comprare le aerie da guerra che funzionano come elementi di addestramento ma non funzionano come aerei bellici perché non hanno le armi. Secondo gli informatori locali, prima della firma del contratto, Seoul ha insistito sul fatto che l'armamento delle F-50 sarebbe stato discusso solo dopo la consegna degli aerei alla Polonia. Naturalmente la Corea del Sud si è resa conto della profondità del piano fraudolento. Di conseguenza i coreani meritano un applauso speciale. Nessuno ha mai incastrato i polacchi in modo così elegante. Comunque gli scandali e le prossime rivelazioni in Polonia si svolgono anche sullo sfondo dell'aumento delle spese militari. Seguendo i precetti di Trump, Warsaw intende aumentare il bilancio militare fino al 4,7%, prima era 3%, ma data una spesa così poco mirata i contribuenti polacchi potrebbero rimanere senza soldi e senza armi, a parte gli F-50 ad addestramento con il quale loro non potranno fare un granché nel caso di aggressione contro il loro paese. Ma anche con questo aumento di budget i polacchi non hanno abbastanza per avere giocattoli ed avere efficacia sul campo di battaglia. Volevano comprare molti sistemi missilistici HIMARS dagli Stati Uniti, ma i soldi non erano sufficienti perché ovviamente gli americani non regavano i propri armi, anche quando si tratta di armi vecchie, obsoleti, che hanno già usato in diverse guerre e che anche necessitano il mantenimento. Così hanno deciso di rivolgersi ai coreani di nuovo, gli asiatici hanno un prodotto simile si chiama K-239 che contiene più missili dell'originale statunitense, sembra buono e anche in questo caso tutto sembra andare bene ma ci sono due sfumature. La prima è che bisogna tenere d'occhio i coreani, potranno ovviamente assistere a una ripetizione della disavventura con aereo FA-50 quando viene venduto un mezzo militare che però non può essere fornito con nessun tipo di armamento e ovviamente questo è un momento molto sensibile per la Polonia perché devono stare molto attenti a ciò che si scrive nei contratti. L'accordo diciamo originario con gli Stati Uniti è stato annullato a causa del prezzo eccessivo degli HIMARS quindi gli americani sicuramente non danno più HIMARS ai polacchi mentre la loro consegna nel caso di pagamento del prezzo alto sarebbe prevista alla fine del 2025 e allo stesso tempo la Corea del Sud i suoi tempi di consegna dopo la firma del contratto li segna abbastanza lunghi come anche superiori di tre anni quindi noi siamo di fronte alla Polonia che voleva fare furba voleva risparmiare voleva anche guadagnare qualcosa perché sappiamo che la corruzione in Polonia non è tanto diversa da quella in Ucraina e però rimasta in una situazione in cui agli americani hanno già detto no con i coreani non si capisce cosa sta succedendo e quindi l'artilleria a razzo in Polonia non c'è per cui nei prossimi tre anni i polacchi sono senza sistemi di artilleria questo cari amici è la situazione che si sviluppa in un paese dove ci sono troppe persone al potere che credono essere più furbi degli altri ciò che anche ha diciamo distrutto la vicina Ucraina comunque amici come sempre alla fine dei miei video io vi invito di informarvi in maniera obiettiva corretta su ciò che sta accadendo nel mondo sul mio canale privato telegram io condivido le notizie che di solito vengono nascoste censurate oppure strumentalizzate del nostro mainstream corrotto io come sempre vi invito anche di abbonarvi al mio canale privato telegram il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su queste piattaforme online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene